ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv questo nuovo video di fifa 365 2022 ragazzi nell'ultimo video quello che in cui abbiamo aperto il box per la prima volta ci dove essere ce lo mi manca ma poi non l'ho registrato perché nel senso l'ho fatto ma mi sono scordato di spingere rec e quindi non c'è stato la parte finale del video purtroppo ahimè ma questa volta ragazzi cerchiamo di farcela e fare anche la parte finale quella con il cielo mi manca comunque abbiamo queste cinque bustelle da aprire mi raccomando lasciate subito immediatamente un bel like condividete il video se volete sui vari social su anche tramite whatsapp con i vostri amici dove volete condividete il più possibile questo video e farlo salire e ricordatevi che sono attivi se volete l'abbonamento al canale soltanto a 0 99 per sostenere il canale andare avanti con gli spacchettamenti se volete lo potete fare altrimenti non fa niente ragazzi perché potete seguire il canale ugualmente e mi raccomando commentate con la vostra figurina preferita che vedrete in questo spacchettamento siamo pronti a iniziare vediamo cosa esce fuori da questo spacchettamento holland eccolo qui signori subito subito così pa subito a bomba subito a bomba bene questa mettiamo a parte perché sicuramente è una delle figurine migliori ma anche qui ragazzi subito Sergio Ramos con la maglia del Paris Saint Germain dopo tanti tantissimi anni a Real Madrid e come bagnere anche come capitano insieme con Bernat altro spagnolo Kovacic e Munt anche lui molto interessante Munt giovane promessa anche loro mettiamo da una parte Müller e Musiala e poi troviamo la maglia del Real Madrid per adesso ragazzi primo pacchetto a bomba primo pacchetto a bomba perché abbiamo trovato veramente figurine importanti in questo primo pacchetto andiamo avanti e troviamo a Yala e Cruz Florenzi e Brian Diaz Gnabri e Lewandowski anche questa una signora figurina Salemekers e Tonali e poi troviamo Weigant e Almendra andiamo con un altro pacchetto il terzo Aganji e Hummels lo stemma del Manchester United William Hadjom e Rafinha bastoni di Singstar e poi troviamo queste copertine andiamo avanti troviamo Greenwood Martial altra figurina molto interessante perché Greenwood è un classe 2001 arrivato al Manchester United dall'Ajax anche questa figura molto interessante ragazzi che spacchettamento anche il signore Ibrahimovic ragazzi il signore Ibrahimovic che purtroppo contro la Roma ha fatto un partidone eccolo qua signori comunque c'è il signore Ibrahimovic il dio del calcio che ci guarda anche un po' brutto bene lo stemma del Paris Saint Germain Martinez con Mazzarovic vabbè dell'Ajax Luan Rocha del Palmeiras ragazzi io non posso chiedere di meglio a questo spacchettamento però vediamo cosa esce fuori no perché a sto punto visto che stiamo sculando poterci continuiamo a sculare troviamo Benzema e Hazard anche questa è una bella figurina non all'altezza delle altre secondo me però una signora figurina che dire ragazzi che dire qui abbiamo trovato il mondo il mondo abbiamo trovato ragazzi io metterei proprio queste sei figurine così in bella mostra e ci facciamo una bella foto perché meritano meritano veramente tanto facciamo la foto cheese ok ragazzi adesso andiamo a fare il cielo mi manca bene ragazzi questa volta il tasto del rack l'abbiamo spinto per fare questo cielo mi manca e iniziamo dalla numero 8 che è del bocca numero 8 che ci manca e l'andiamo ad attaccare eccola qui l'altra volta abbiamo trovato parecchi doppioni ragazzi vediamo se anche questa volta sarà così io mi auguro di no che troviamo molte figurine mancanti però l'altra volta abbiamo trovato parecchi doppioni qui abbiamo numero 19 del palmeiras per stare gli inizi abbiamo trovato un buon numero di doppioni poi abbiamo numero 21 poi abbiamo numero 41 del celsic dove c'è kovacic ex inter e moon poi abbiamo numero 87 nel manchester united e sono greenwood che abbiamo detto che è una figura molto importante martian e poi abbiamo numero 89 che va qui che è il logo del manchester ok poi abbiamo del barcellona la 109 che sono i portieri ce l'abbiamo per stega nel neto poi andiamo a real madrid dove abbiamo la 132 che ci manca e sono benzemai hazard poi abbiamo la 137 che è la maglia della madrid poi abbiamo la 137 che è la maglia della madrid poi abbiamo la 170 del paris saint germain poi abbiamo la 176 sempre del paris saint germain abbiamo la 179 che è il logo del paris saint germain poi abbiamo la 192 del bayern monaco ancora il bayern monaco la 193 un'altra mancante con lewandowski anche lui è un 2003 ragazzi poi abbiamo la numero 200 che ce l'abbiamo nel borussia dortmund e poi sempre il borussia abbiamo la 206 quindi c'è Witzel e holland un giocatore che come la tocca la butta dentro del 2000 poi abbiamo la 256 dell'inter racing star che è bastoni queste racing star sono molto simili a quelle dell'anno scorso della champions quelle della tops mi sembra un po' una scopiazzatura sinceramente 278 con florenzi e brian diaz poi ancora milan esatto abbiamo trovato anche il 1280 sale maker settonali poi abbiamo 290 ibrahimois e giru poi abbiamo la 290 ok che ci manca poi abbiamo dell'ajax la 311 no scusate la 310 poi c'è anche la 311 comunque intanto c'è la 306 scusate 306 poi c'è la 311 che è rimasta attaccata apposta ho detto 311 quindi 306 che va qui e poi abbiamo la 311 dell'ajax la squadra olandese che sforna talenti ormai da anni veramente anni e anni decenni secoli quasi allora sicuramente da secoli perché non so di che anno è l'ajax penso del 1900 può essere il 1900 non lo so poi abbiamo la 326 che ci manca lo shak pardonez e la 408 che va qui che è la storia del world cup quindi del mondiale qui troviamo quello 1958 e 1962 ok ragazzi con questo spacchettamento è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti